Il singolare concerto di Natale, sabato pomeriggio in cattedrale, il gruppo Dama Dacà, che propone musica popolare, soprattutto legata al meridione d'Italia, ha offerto una rassegna di canti natalizi della tradizione popolare, legata soprattutto all'opera di Sant'Alfonso Maria degli Guori, il celebre Vescovo di Sant'Agata dei Goti, famoso tra l'altro per le sue composizioni poetiche e di molte canzoncine popolari in italiano e in napoletano, tra cui il celebre Tu scendi dalle stelle. Il gruppo Dama Dacà è stato affiancato dal coro degli alunni della scuola Il Pellicano, che ha organizzato l'evento come raccolta fondi per progetti a favore di bambini con fragilità.